Ciao a tutti, buongiorno, sono Karin Walnefer, sono docente di scuola Tau nell'ambito dell'alimentazione secondo la medicina cinese e oggi vorrei parlare di un problema che dovrebbe un po' interessarci tutti ed è lo zucchero e il problema del sapore dolce eccessivo. Una piccolissima introduzione, la medicina cinese in linea generale sostiene la necessità di mantenersi su una via di mezzo quindi di evitare tutti gli estremi in ogni direzione a meno che non li si usi per scopi terapeutici ben precisi però in linea generale gli estremi sono sempre pericolosi perché questo dipende molto dal modo in cui l'organismo si autoregola questa capacità di autoregolarsi, di mantenere una sorta di equilibrio, omeostasi potremmo dire funziona solo quando gli influssi da dentro o da fuori si mantengono entro un certo limite quando abbiamo influssi troppo forti questa capacità di autoregolarsi può entrare in crisi e questo vuol dire poi creare un disequilibrio, creare eventualmente una malattia questo vale anche per quanto riguarda gli alimenti nella alimentazione secondo la medicina cinese vengono descritti degli effetti che ogni alimento ha sull'equilibrio interno questi effetti noi possiamo chiamarli energetici in verità possiamo spiegarli poi anche partendo dalla biochimica comunque questi effetti vengono descritti tradizionalmente con le nature termiche che già un po' negli ultimi incontri abbiamo discusso un pochettino e anche con i sapori ecco l'idea è che questi effetti negli alimenti generalmente non sono fortissimi nei rimedi fitoterapici abbiamo effetti molto più decisi negli alimenti normalmente gli effetti sono già piuttosto moderati però esistono alcuni alimenti con degli effetti che nell'insieme possono diventare veramente pericolosi per l'equilibrio interno soprattutto se questi alimenti poi li usiamo in quantità importanti e appunto uno di questi problemi che incontriamo veramente quotidianamente è il sapore dolce eccessivo questo nome eccessivo in verità per me sostituisce la definizione tossico perché in cinese si dice sapore tossico mi sembra a sua volta eccessivo quindi io preferisco dire sapore dolce eccessivo e si riferisce tradizionalmente ad alimenti che hanno un sapore dolce e quindi un effetto legato al sapore dolce molto molto forte, molto deciso che appunto può mettere in crisi l'equilibrio interno e quindi tradizionalmente si riferisce a zucchero, miele, insomma dolcificanti naturali ora io vorrei un attimino proprio in modo molto concreto e con degli esempi spiegare come questo effetto positivo del sapore dolce ok possa diventare pericoloso tendenzialmente potenzialmente patologico negli alimenti con un sapore dolce eccessivo farò tre esempi tre effetti del sapore dolce ovviamente non copro tutta la questione perché non è possibile farlo in questo poco tempo però iniziamo dalla capacità del sapore dolce di tonificare il CI quindi di darci energia, di darci forza molto banalmente il CI possiamo intenderlo così e quando guardiamo quali sono gli alimenti con un sapore dolce che ci danno energia vediamo alla fine che grandissima parte sono alimenti che hanno carboidrati, proteine, grassi quindi che fondamentalmente ci danno calorie e quindi energia che noi possiamo bruciare ok trasformare in azione, in calore, in attività certamente c'è quindi una relazione anche con la glicemia ok quindi con la capacità di questi alimenti in un modo o nell'altro comunque di inalzare la glicemia quindi il tasso, il livello di glucogeno, di zucchero nel sangue ora questa capacità di tonificare CI funziona benissimo nei cereali integrali nei legumi che sono proprio i i gruppi per tonificare il CI migliori secondo la alimentazione della medicina cinese funziona molto bene anche in carni, pesci, formaggi, noci, semi oleosi, uova, formaggi quindi tutto un altro insieme di alimenti che magari non sono visti come principali tonici del CI ma che comunque sono sempre molto capaci di tonificare il CI di darci energia in modo un pochettino diverso anche dal punto di vista biochimico ci sono un po' di cose diverse mentre con cereali, legumi siamo più su carboidrati, proteine qui siamo più su proteini grassi ma adesso non mi inoltro in questa discussione qua comunque tutti questi alimenti sono dolci e riescono in un modo o nell'altro a tonificare il CI ok? se andiamo a vedere cosa fa il dolce eccessivo andiamo pure a vedere lo zucchero e ovviamente voglio dire dolce eccessivo non si riferisce a un pizzico di zucchero ma comunque una quantità di una certa importanza cosa succede quando mangio un bel po' di zucchero quindi proprio una torta, una barretta di cioccolato quello che è toglie energia, ruba energia gli antichi cinesi molto probabilmente hanno solo osservato questo fatto noi oggi riusciamo a dare anche una spiegazione proprio dal punto di vista fisiologico, chimico se vogliamo e cioè che quando mangiamo questi alimenti che innalzano la glicemia in modo troppo repentino, troppo veloce poi c'è un innalzamento anche dell'insulina come reazione molto evidente e in seguito abbiamo un calo molto evidente della glicemia e quindi come dire abbiamo dopo aver mangiato qualcosa di dolce abbiamo un'ondata molto forte di energia e poi comunque un calo energetico e quindi un deficit di CI ok? con stanchezza, con nuova fame e molto spesso nuovamente molta voglia di dolci quindi già questo esempio ci fa capire come il dolce blando non eccessivo dei cereali, dei legumi di quasi tutti gli altri alimenti tonifica il CI mentre il dolce eccessivo destabilizza la messa a disposizione del CI e nel peggiore delle situazioni toglie CI se pensiamo a questo esempio qua tra l'altro possiamo come dire capire che anche le farine raffinate anche corn flakes anche la purea di patate che sono tutte cose che hanno un indice glicemico molto alto quindi da quel punto di vista sono paragonabili allo zucchero, al miele mollano come dire gli zuccheri in modo molto veloce tutti questi alimenti anche se tradizionalmente non vengono classificati come dolci eccessivi però con lo sguardo moderno possiamo benissimo dire da questo punto di vista sono assolutamente comparabili al dolce eccessivo dello zucchero, del miele, dei dolcificanti perché hanno un effetto in ogni in ogni senso comparabile appunto ok quindi questo era l'effetto di tonificare il CI secondo tema il nutrire umidificare in senso positivo anche questa è una capacità che hanno gli alimenti dolci e quando il dolce è come dire blando non eccessivo questo questo nutrimento che gli alimenti dolci danno è assolutamente da vedere in senso positivo quindi sapori gli alimenti dolci come dire creano liquidi dissetano creano sangue in tutte le cose che che umidificano in senso positivo nutrono il corpo qua possiamo pensare alla frutta ai cereali se vogliamo anche alla stessa acqua ok anche acqua anche l'acqua ha un sapore dolce a meno che non sia acqua minerale allora il sapore diventa salato anche qui quando abbiamo alimenti con un sapore dolce eccessivo vediamo che questa capacità positiva di nutrire diventa o può diventare non è uguale in tutti gli alimenti con un dolce eccessivo però può diventare negativa nel senso che questi alimenti iniziano a umidificare in modo negativo quindi a creare umidità patologica e a quindi creare liquidi non buoni non utilizzabili in un certo senso no o eccessivi anche qui possiamo se vogliamo ritornare un attimino a questa immagine con la glicemia e l'insulina no perché cosa succede quando il corpo reagisce con l'insulina a una glicemia troppo alta succede che questi zuccheri nel sangue entrano nelle cellule nelle cellule alla fine diventano prima magari glicogeno quindi una sorta di riserva a breve termine e poi alla fine si tende il corpo tende a immagazzinarli come grassi e questo adesso dipende un po' da quanta è una persona no i grassi avere un deposito di grassi in un primo momento ovviamente è positivo per l'organismo un po' di riserve ci vogliono ma quando queste riserve poi superano un certo limite ovviamente per la medicina cinese abbiamo nuovamente a che fare con umidità quindi come dire è un effetto questo del sapore dolce eccessivo umidificante in senso negativo un altro esempio è l'intestino ok quando mangiamo molti dolci molti zuccheri un po' tutti gli zuccheri hanno questo effetto qua è molto facile che superiamo la capacità dell'organismo di assimilarli quindi questi zuccheri rimangono nelle feci arrivano nell'intestino crasso dove poi vengono digeriti se vogliamo così dai dai batteri si creano gonfiori abbiamo poi più spesso feci molli avremo una una disbiosi perché ovviamente questo carico di come dire di di super fertilizzante ok sotto forma di zuccheri incentiva la crescita dei batteri sbagliati non di quelli di cui avremo bisogno noi che vivono fondamentalmente di fibre e non di zuccheri e quindi anche tutto questo feci molli gonfiori disbiosi intestinale anche tutto questo sono sempre segni di umidità per la medicina cinese quindi vedete che anche qui arriviamo alla fine a dire i colpevoli molto molto spesso almeno sono alimenti di un sapore dolce eccessivo e un altro esempio volevo fare che è quello del del muco ok molti zuccheri hanno anche questo effetto di incentivare la produzione di muco che può essere positivo perché quando abbiamo una tosse o secca o comunque che fa fatica a sciogliersi cosa facciamo beviamo uno sciroppo o di miele o di zucchero perché aiuta ad aumentare come dire la produzione di muco a liquefare in un certo senso no queste questo questo spettorato e quindi riusciamo poi a a buttarlo fuori ma in senso negativo quando mangiamo troppi alimenti di un sapore dolce eccessivo senza averne bisogno quindi quando siamo anche qui come col peso corporeo c'è un una quantità di umidificazione che è positiva per il corpo quindi quando c'è secchezza va benissimo anche lo zucchero e anche il miele ma oltre a un certo limite lo stesso effetto che era positivo prima inizia a diventare negativo e quindi avremo un eccesso di muco ok il naso che gronda spesso infezioni tutte cose che conosciamo molto bene tra l'altro soprattutto nei bambini i bambini sono molto molto sensibili proprio a questo problema qua sempre in riferimento al dolce eccessivo ok quindi tonificare il ci nutrire umidificare in senso positivo negativo terzo esempio è l'effetto che nella medicina cinese viene descritto come un effetto diaforetico del sapore dolce il sapore che ha il maggior effetto diaforetico è ovviamente il piccante diaforetico vuol dire che ci fa sudare ok il piccante proprio muove il ci lo porta in superficie i pori si aprono e noi sudiamo questo è l'effetto soprattutto del piccante ma noi sappiamo che anche il dolce ha un leggero effetto diaforetico quindi un pochettino come dire ci fa sudare cosa vuol dire vuol dire che comunque anche il dolce muove il ci il ci poi arriva maggiormente alla superficie e un pochettino iniziamo a sudare questo muovere il ci come dire è un un segno un indizio del fatto che il sapore dolce non solo ci dà energia ma un pochettino aumenta anche lo yang ok porta anche in movimento questa questa energia aumenta un pochettino la dinamicità se vogliamo no all'interno dell'organismo questi sono aspetti che sono legati allo yang e infatti lo sentiamo quando siamo stanchi siamo giù anche quando abbiamo dormito poco per esempio c'è un'istintiva voglia di mangiare qualcosa di dolce ok spesso purtroppo in quelle situazioni scegliamo anche qualcosa di dolce eccessivo no perché il nostro istinto non sempre riesce come dire a stare nella via di mezzo quindi in quella in quella occasione ovviamente cerchiamo il dolce per darci un po' di spinta va bene e va benissimo ovviamente mangiare qualcosa di dolce blando per avere questo effetto qua per esempio noi consigliamo nell'alimentazione seconda medicina cinese di avere una colazione con cereali con legumi comunque con qualcosa di un sapore dolce blando uno per darci energia ci da bruciare nel momento della giornata in cui ne abbiamo più bisogno due certamente anche per sostenere lo yang ok quindi come una sorta di caffè molto sottile sottile ok il lato negativo del sapore eccessivo dolce eccessivo in questo ambito qual è è che non solo stimola un pochettino lo yang ma crea calore quindi abbiamo anche qui un effetto come dire nella stessa direzione ma molto 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 più forte e problematico per la salute e qui come conseguenze conosciamo la carie che adesso è un esempio quasi banale perché l'effetto del sapore dolce è legato anche a cose piuttosto gravi come tutte le malattie della civiltà potremmo dire no ipertensione diabete ovviamente reazioni infiammatorie ha un ruolo negativo anche per quanto riguarda i tumori quindi sono tutte cose che per la medicina cinese hanno a che fare non solo ma in un aspetto importante con calore e dietro a questo calore anche lì non solo non è l'unica cosa che crea calore certamente noi abbiamo altre cose tra emozioni e alimentazione che vanno in questa direzione ma un aspetto molto importante è sicuramente il sapore dolce eccessivo ok quindi finirei sono già andata oltre il tempo la conclusione qual è la conclusione è adesso in questo preciso esempio ovviamente di limitare il più possibile il sapore dolce eccessivo quindi di usare lo zucchero il miele come una sorta di spezia ok di mangiare qualcosa di dolce la domenica forse o se no a Natale e Pasqua adesso io lo dico poi ognuno ognuno deve vedere un pochettino come riuscire a realizzarlo meglio ovviamente di stare attenti anche con le farine con tutti gli altri cibi alimenti che hanno un carico glicemico molto alto e in generale la conclusione può essere quella di nell'alimentazione forse in tutta la vita cercare di essere sempre un po' sospettosi quando si tratta di qualcosa di estremo estremamente dolce estremamente piccante estremamente freddo estremamente caldo insomma tutti gli estremi su con le orecchie ok questo è tutto per questa volta ciao ciao e alla prossima